Il Viti ha perso, questo è un brutto aiuto che costa 3 punti, 22 a 20. Vante Fernandes finta, rimane per aria e regala 10 metri di spaccazio al super tiratore in questo momento come Davide Alviti. Vante Doi gira l'angolo, fucilata, Alviti da 3, paragola perfetta, si intuiva da come gli ha uscita dalle mani, 7-6, 7-1.